Il rientro di un ostro sommergibile alla base dopo una lunga fortunata crociera durante la quale ha silurato e colato a picco un sommergibile e un cacciatorpediniere inglesi. Gli equipaggi delle altre unità alla fonda e il personale della base accolgono con gioia cameratesca il ritorno del sommergibile vittorioso. Si raccontano ai giornalisti i particolari del duplice colpo inflitto alla marina britannica. La reazione dei cacciavversari si concretò nel lancio di 131 bombe antisommergibili e l'ufficiale di Rotta ha annotato con altrettanti nodi ad una sagola le fasi del furioso e vano martellamento subacqueo. In navigazione è stato anche improvvisato questo gagliardetto che ricorda quelli dello squadrismo e al loro spirito chiaramente si riallaccia.